pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati un abbraccio a voi tutti ecco siamo nei capitoli 13 17 del vangelo secondo giovanni nei discorsi da dio cioè gesù sta parlando della sua prossima di partita sta toccando temi profondi e i suoi discepoli sono sconfortati scoraggiati impauriti e gesù dice non sia turbato il vostro cuore usa lo stesso verbo tarasse in che ha usato quando era di fronte alla morte di lazzaro indica proprio quel turbamento a un quell'angoscia mortale insomma quel momento di lotta contro la realtà della morte tutto ciò che comporta pensiamo i discepoli ci saranno chiesti ma mo che gesù se ne va che facciamo che ne sarà di noi e gesù dice non sia turbato il vostro cuore abbiate in fede in dio abbiate fede anche in me perché perché vado a prepararvi un posto ecco gesù torna al padre per preparare anche noi un posto e ritornerò dice e vi porterò con me perché dove sono io siate anche voi ecco questo è qualcosa di meraviglioso perché vedete davanti alla realtà già stessa della morte e le paure già sono tante c'è chi ha paura che per lui non ci sarà a posto perché guarda i suoi peccati e quello che ha combinato nella vita c'è chi ha paura che non ci sia nulla quindi vaga brancola ma non non ha ancora incontrato davvero gesù c'è chi il problema non se lo pone e vive come se non ci fosse questa realtà invece gesù ce ne mostra la sua verità lui è nato a prepararci un posto questo tema del posto un tema molto molto profondo perché il tema del luogo nel vangelo secondo giovanni è fondamentale e se ci pensate nella nostra vita il tema del posto da occupare del luogo dove stare qualcosa di profondo perché ognuno di noi già da piccolo si chiede ma che posto avrò io nella vita chi sono io che posto nella società che devo fare della mia vita il progetto di vita che dio ha su di me noi avvertiamo una fragilità dentro di noi siamo incompiuti che siamo fragili sperimentiamo tante paure oppure sperimentiamo il desiderio del bene facciamo il male insomma ci rendiamo conto che non siamo assoluti e noi cerchiamo di rispondere spesso e volentieri a questa nostra fragilità facendo finta di nulla negandola oppure cercando cose che ci facciano così che ci arrechino piacere oppure assolutizziamo gli affetti gli obiettivi perché per dare un senso alla nostra vita per avere un'identità per sentirci realizzati ma spesso e volentieri falliamo perché scommettiamo la vita su ciò che è più piccolo di noi ecco qui signori ci sta dicendo vado a prepararvi un posto perché siate con me ci sta parlando di una relazione ci sta parlando e ci sta dicendo guarda che c'è posto per te nel cuore di dio c'è una relazione da instaurare vedete la nostra fragilità la paura di ogni uomo il limite che sperimenta è una chiamata da aprirsi a incontrare l'assoluto a incontrare colui nel quale il nostro cuore può trovare riposo ma tommaso a un certo punto gli chiede spiegami come faccio io a conoscere quella via tu hai detto conosciamo la via ma quale via è pensa a tommaso che siamo un itinerario così da sapere tipo google map almeno dice so a quali incroci girare e gesù dà questa risposta il secondo punto che che spiazza un po tutti perché dice io sono la via io sono la verità e la vita è molto bello potremmo anche per capirla meglio tradurla così io sono la via perché sono la verità e la vita ma come fa una persona a essere una via anzitutto già nell'antico testamento il concetto di via era un concetto etico di vita cioè la via di dio e la sua legge quindi camminare sulla via di dio significava per la saga scrittura l'antico testamento camminare secondo i comandamenti qui invece gesù ci fa fare un salto in più qui non sono più i comandamenti scritti qui la via è vivente e lui che vuol dire dunque che la via è lui che c'è da camminare con lui come dicevo prima la nostra fragilità la vita appare nel suo senso più profondo il nostro cuore colmato quando ci apriamo a una relazione c'è insomma ad aprirci a una relazione a un camminare con gesù qua non si tratta di avere tutto chiaro a tavolino si tratta di camminare insieme con lui e che vuol dire camminare insieme con lui significa pregarlo significa porlo come signore della nostra vita significa obbedire alle sue parole significa camminare in comunione con gesù perché lui è la via perché è la verità la verità è quello di cui abbiamo tutti un desiderio infinito nel cuore ma qui per verità non intende soltanto una cosa di concettuale ci sono anche le verità di fede ma qui bisogna dire sono la verità io sono come a dire il fondamento di tutto io sono la verità in un senso rivelatorio cioè io ti rivelo chi è il padre io ti rivelo chi è dio chi sei tu e gesù è la verità che illumina che libera ed è la vita noi possiamo dire di avere in dono la vita ma non che siamo la vita gesù è la vita lui ha la vita del padre in sé ha la vita di dio è la vita eterna stessa di dio e questa vita ce la comunica questa vita noi la attingiamo soprattutto nei sacramenti in cui riceviamo gesù in noi pensate quando riceviamo l'eucaristia cosa dice gesù chi mangia mio corpo ha la vita eterna quindi c'è da camminare con gesù ci sono tante vie che possiamo percorrere la migliore di tutte è quella in comunione con lui noi possiamo fare tante cose buone ma quelle che davvero ci realizzano sono quelle che ci portano e ci fanno stare in comunione con il signore quindi è importante chiedermi ma io dove sto andando che scelte sto prendendo con quali criteri decido su quale via sto camminando perché vedete diceva san tommaso è meglio zoppicare sulla buona strada che correre fuori strada a un certo punto filippo dice mostraci il padre ci basta va qui insomma tutta sta confusione insomma complicata la cosa mostraci il palzo ma risolviamo tutto fammelo possedere quasi un qualcosa da fare tuo davanti alla fatica dell'uomo che non vuole camminare vorrebbe avere tutto sotto mano chiaro a portata così di comprendone gesù dice ma ma filippo ma ma ancora non hai capito sei con me da tanto tempo ma non ti sei reso conto che il padre dentro di me e agisce in me guarda le opere che compio ecco gesù ci parla di una comunione intima e profonda tra lui e il padre uno nell'altro quando tu ami qualcuno quella persona ce l'hai nel cuore non ci mi sta a cuore anche se non è con te in un certo modo è come se l'avessi dentro ecco gesù il padre sono davvero dentro l'uno nell'altro e non solo e gesù ci fa capire che addirittura noi siamo chiamati a questa unione questa comunione profonda se ci pensate col battesimo noi abbiamo ricevuto in noi il dono dello spirito di dio di avere dio nel cuore di essere nel cuore di dio tutta la vita cristiana altro non è che crescere in questo rapporto di comunione intima e profonda in cui diventiamo docili alla presenza di dio in noi e lo lasciamo agire attraverso di noi gesù dice chi vede ha visto me ha visto il padre tutto quello che io dico tutto quello che io faccio viene e mostra chi è il padre e se non mi credi guarda le opere che io compio queste testimoniano che il padre è in me e ci dice qualcosa di grandioso e qui concludiamo alla fine del vangelo dice in verità in verità vi dico chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi perché io torno al padre ci apre una prospettiva incredibile gesù qua ci dice chi crede in me farà opere più grandi attenti qui non sono i miracoli e l'opera grande di chi continua a far vivere lo spirito di dio nel suo cuore fa opere meravigliose e guardate i santi quante cose meravigliose in chi lascia agire dio dentro di sé questa è l'opera veramente più bella lasciare che dio agisca attraverso di noi e infine gesù dice qualsiasi cosa chiederete nel mio nome io la farò perché il padre si è glorificato nel figlio qui ci dice se tu vivi in comunione con me impari a chiedere nel mio nome cioè non solo nominando gesù ma scegliendo ciò che secondo il suo cuore mettendoci nei suoi panni vedete è la crescita in un cammino di comunione profonda con il signore dunque questo vangelo meraviglioso cosa ci dice uno che dio ci ha a cuore che c'è un posto preparato che c'è un progetto sognato su di noi come faccio a raggiungere questo posto e come faccio a realizzare ora il progetto che dio per me qual è la via da seguire la via è gesù e camminare con lui con lui perché lui e la verità e la vita e tutto questo ci porterà a compiere opere ancora più grandi più belle perché perché sempre lui che agisce nel cuore di ognuno di noi buon cammino allora a tutti e che dio vi benedica pace e bene